48 persone, la maggior parte delle quali sono bambini, sono rimaste ferite in un incidente avvenuto a Eberbach nei pressi di Stoccarda in Germania, dove uno scuolabus si è schiantato contro diverse vetture e un edificio. Erano circa le 7 del mattino e l'autobus era al completo quando è finito contro il muro di una casa, per cause ancora sconosciute. Secondo le autorità locali, tra le persone ferite ce ne sarebbero una decina che versano in gravi condizioni e sono state immediatamente trasportate negli ospedali più vicini.